Io sono qui che aspetto il tuo secondo romanzo. Non vedo l'ora di aggerlo. Volevo solo dire che siete la coppia migliore che conosco. Ti amo da morire, Marky. Andrea. Margherita. A chi dobbiamo la nostra fedeltà? Agli altri o a noi stessi? Scusa. Di cosa? E tu sei felice? Ma che domanda è? Volevo fare l'arredatrice. E perché hai rinunciato? La vita è fatta di scelta. Cosa è successo in quel bambino? Niente. Sono cinque anni che io penso soltanto a te. E tutto quello che riguarda me, sogni, ambizioni, progetti, tutto, passa in secondo piano. Che cosa vuoi? E' un'altra storia senza te. E? Ok. Yeah. Grazie a tutti.